Hai una bambolina che fa mamma mamma Testimonianze che abbiamo raccolto durante un evento, il Salone Nazionale dell'Imprenditoria Femminile-Giovanile promosso dall'Associazione Gamma Donna e la Camera di Commercio di Torino Oggi parliamo di percorsi e il leitmotiv è il cambiamento, non bisogna rifuggire il cambiamento ma anzi per seguirlo perché ci rende migliori, ci dà molti skill in più di adattabilità, di velocità nel mondo di oggi che è sempre in cambiamento, anche cambiare azienda, settore è molto importante non è necessario fare un cambiamento verticale ma anche passaggi orizzontali tra settori diversi sicuramente arricchiescono un profilo e danno una marcia in più come persona Lei è manager in una grande azienda come Microsoft Qual è la sua esperienza come donna, come manager? Sono molto fortunata perché Microsoft è stata nominata anche quest'anno in Italia e in Europa Best Place to Work, quindi una delle aziende migliori dove lavorare questo vale anche per le donne e credo che il segreto del successo sia il fatto che è un'azienda fatta sulla persona quindi molto flessibile e quindi come donna la cosa che io apprezzo molto è il fatto di potermi organizzare la vita lavorativa come preferisco e quindi magari riuscendo anche a gestire figli, appuntamenti improvvisi dal dottore e così via ma allo stesso tempo di potermi realizzare come professionista e quindi ciascuno con il proprio stile di leadership viene soprattutto misurato sui risultati su quello che riesce a fare e non tanto su un concetto, un preconcetto se vogliamo precostituito su cosa dovrebbe essere un leader In un mondo al maschile, crede che la figura della donna stia subendo una rivalutazione anche nel mondo del lavoro, dell'imprenditoria? Ebbè, insomma siamo il 50% della popolazione il più del 50% dei talenti all'uscita dall'università sarebbe ben strano se nella caccia al talento non venisse valorizzato il talento femminile Alcune aziende, in particolare la Microsoft, ma molte aziende che aderiscono a Valore D che è l'associazione per la propulsione del talento femminile nel mondo del lavoro ci sono anche dei target proprio in termini percentuali di posizioni manageriali gestite dalle donne questo non è non tanto per un tema di quote quanto per dare la consapevolezza di misurare in maniera, se vogliamo, scientifica quante donne stanno entrando nel mondo del lavoro e come stiamo aiutandole a svilupparsi per poter avere le pari opportunità poi il successo dipenderà dal merito come sempre Se dovesse dare qualche consiglio a giovani donne interessate a fare carriera o a diventare, a facciarsi al mondo dell'imprenditoria, che cosa consiglierebbe? Penso che forse il consiglio numero uno è credere in se stesse perché ci sono innumerevoli studi che dimostrano come spesso le donne tendono a valutarsi un po' di meno rispetto a quello che magari un equivalente maschile fa e quindi certe volte c'è anche una maggiore paura del buttarsi in una nuova impresa io penso che bisogna conoscersi, sapere che cosa ci motiva, che cosa ci rende felice, che cosa ci dà passione e impegnarsi al massimo in questo perché poi questo è il migliore predittore del successo quindi fare qualcosa che piace molto è molto probabile che se una persona a talento ce la possa fare e quindi di osare un po' di più perché poi alla fine osare, prendersi dei rischi li valutiamo sempre più grandi di quelli che poi effettivamente sono ma osando diventiamo migliori, diventiamo più forti, prendiamo anche un certo grado di resistenza anche alle cadute che si possono fare e diventiamo migliori professionisti quindi alla lunga questo paga. Un'ultima domanda anche nella sua esperienza nell'azienda nella quale lavora da parte degli uomini, c'è resistenza o c'è apertura anche ad una maggiore presenza femminile anche nelle imposizioni di rilievo manageriali? Sicuramente c'è un tema generazionale, io sono stata molto fortunata perché i due amministratori delegati con cui ho lavorato sono persone giovani, molto aperte e che quindi hanno favorito l'ingresso alla partecipazione delle donne. Devo dire che è molto diverso quando sei l'unica donna al tavolo del leadership team e quando come adesso siamo magari in quattro perché sicuramente le dinamiche cambiano. Quindi io penso che ci sia apertura penso che però sia anche alle donne di farsi avanti e di farsi conoscere e anche quindi di prendersi delle responsabilità e mettersi in gioco. Ci vuole raccontare brevemente la sua storia, la storia della sua azienda? Va bene, la storia di Boumou nasce due anni e mezzo fa, cioè in realtà l'idea nasce due anni e mezzo fa Boumou nasce lo scorso novembre e l'idea è nata in modo molto naturale quando ero incinta di mia figlia ero al nono mese, ero a casa, io prima lavoravo come fotografa, ero anche un po' preoccupata di come avrei potuto conciliare il mio lavoro di fotografa con la maternità proprio perché la fotografia ha degli orari pazzi e ho deciso di decorare a modo mio visto che non trovavo niente che mi piaceva, di decorare a modo mio la cameretta di mia figlia ho ricominciato a disegnare, mi sono inizialmente divertita molto, forse di più che facendo fotografia e poi questi disegni che abbiamo appunto prodotto io e mio marito su materiale vinilico sono piaciuti ad amici, poi ad altri amici, poi ad altri amici e un po' tutto mi ha portato a decidermi e cominciare a produrli e venderli Boumou è una marca francese perché in questo momento vivo in Francia ma produce in Italia, precisamente a Torino e sono vinili di alta qualità per cui ho puntato un po' tutto sui punti in cui ero forte che erano il design, il disegno e la comunicazione perché in realtà invece il mio punto debole era tutta la parte amministrativa, commerciale, di vendite In questo mi riallaccio, sicuramente nel processo qualche difficoltà l'ha incontrata quali sono state e come le ha superate? Sì, la difficoltà maggiore per me è stata quella io sentire parlare di business plan, non ne avevo mai sentito parlare ne ero consapevole per cui nella vita bisogna rischiare ma non lanciarsi al vuoto quindi ho puntato alto in questi punti forti ho voluto un prodotto di alta qualità perché ero convinta che sarei incappata in vari errori all'inizio soprattutto dal punto di vista dei condizioni di vendita però se hai un prodotto valido e buono c'è sempre poi qualcun altro che sarà interessato e l'altra cosa invece ho puntato basso in tutto quello che era la ricerca di nuovi rivenditori di tutta la parte commerciale ho puntato basso nel senso che ho cominciato con piccoli rivenditori e quindi mi sono permessa di poter sbagliare e ho sbagliato anche perché consigli ne ho ricevuti tanti ma dal punto di vista commerciale quasi niente e quindi ho imparato un po' da autodidatta ricevendo una porta in faccia poi un'altra poi un'altra ho calibrato il tiro con l'esperienza le chiedo ancora una cosa lei appunto mi dice che vive in Francia nella sua esperienza pensa che l'Italia sia un contesto favorevole nel quale l'imprenditoria anche giovane è favorita rispetto ad altri paesi a che punto siamo? a un punto di mezzo non è né tra i favoriti né tra gli sfavoriti davvero è vero che respiriamo sempre l'aria dove viviamo e questo influenza tantissimo il nostro atteggiamento però parto dalla mia esperienza io ho avuto un'idea che richiedeva anche un bassissimo investimento all'inizio per cui in realtà avrei potuto lanciare BUMUN in Italia in Portogallo, in Grecia forse anche perché l'investimento era minimo più che pensare in che paese si vive anche perché io negli ultimi 11 anni non ho vissuto in Italia ho vissuto in Spagna, in Portogallo e in Francia quindi mi sento più europea in realtà mio marito è spagnolo, la bambina parla francese è più avere un atteggiamento verso la vita e quindi anche nel lavoro di pensare in positivo e sapere osare ripeto sempre però con i piedi per terra oggi si parla di imprenditoria femminile quali sono le sfide che una donna in particolare deve affrontare e risolvere per riuscire ad essere un imprenditore di successo? Allora io parlo della mia esperienza ma credo che sia replicabile alla grande sicuramente bisogna credere nell'obiettivo che ci si pone e quindi fare tutto quello che serve per raggiungerlo il che significa darsi da fare fare dei sacrifici perché sono inevitabili e per una donna diventa ancora più difficile tra virgolette perché c'è la famiglia e nella famiglia il nodo cruciale è la donna è il nucleo della famiglia la donna deve pensare al lavoro ma non solo deve pensare anche a organizzare la vita se ci sono i figli, la vita dei figli soprattutto se sono piccoli come nel mio caso io ho due bambini piccoli ho una babysitter stando nel sud dove le tradizioni sono ancora molto forti la famiglia è sentita un po' più che nel nord questo è un punto positivo è una nota positiva poiché la famiglia ci aiuta ci è molto molto vicina oggi, ieri, io sono qui a Torino i miei bambini sono con la zia per cui diventa fondamentale l'aiuto perché altrimenti una donna non riesce a fare tutto l'organizzazione è fondamentale e anche la dinamicità e quindi il cambiare le proprie abitudini a seconda delle esigenze Lei crede che le imprese guidate da donne abbiano delle caratteristiche particolari rispetto a quelle classiche per il momento condotte da uomini? Allora, io a me non piace non sono una femminista assolutamente io credo nella parità credo che l'uomo e la donna siano identici eccetto che biologicamente la donna è una cosa in più riesce addirittura a creare degli esseri viventi però questo l'ha scelto la natura ritengo però che la donna proprio perché è costretta per sua natura a pensare non solo all'attività lavorativa ma anche alla famiglia cerca di concentrare tutte le ore lavorative cerca di farle fruttare bene perché sa che sono finite cioè oltre quel tempo io so in azienda che fino alle 19.30 posso pensare al lavoro dopo le 19.30 arrivano i figli in azienda per cui anche volendolo non ci riesco quindi ritengo che riescono forse a concentrare meglio le attività in quelle ore mentre l'uomo magari pensando che può farlo anche dopo sfora con gli orari e quindi c'è la probabilità il rischio che non riesce a farlo in quel tempo ci pensa il giorno dopo in questo senso sì ritengo che la donna è abituata a darsi delle scadenze perché è costretta a fare multitasking lei crede che anche da un punto di vista istituzionale politico ci sia un sostegno sempre di più verso l'imprenditoria femminile? beh questo non sarebbe male seppure io e qui ritorno a un concetto che ho detto prima per me l'uomo e la donna sono uguali per cui sarei addirittura contraria ad agevolare l'imprenditoria femminile cioè per me l'imprenditoria è imprenditoria che sia gestita da una donna o da un uomo è indifferente con però la differenza che la donna ha una sensibilità in più dettata un po' dalla natura proprio della donna per cui ritengo che dal punto di vista politico cioè la politica dovrebbe incentivare in generale l'imprenditoria e non solo quella femminile le chiedo un'ultima domanda diciamo quali sono le caratteristiche che in questo momento di crisi rendono un progetto di business vincente? allora sicuramente prima parlavo con un altro giornalista mi chiedeva se noi abbiamo avvertito la crisi la crisi è inevitabile si avverte nelle aziende però noi direttamente come azienda non l'abbiamo avvertita questo perché? perché noi non siamo abituati a piangerci addosso ormai dovunque in qualunque realtà aziendale accedi si parla di crisi tutti ti sbattono la porta in faccia dicendo no stiamo chiudendo bene se noi avessimo ragionato anche noi in questi termini probabilmente avremmo chiuso anche noi invece no in un momento di crisi ci siamo seduti intorno al tavolo e abbiamo pensato ok c'è crisi è inevitabile cioè è oggettivo cosa possiamo fare nel nostro piccolo per evitarla o comunque per utilizzare la crisi come come dire come punto di partenza per andare oltre ed è quello che ogni giorno facciamo entrando nelle aziende noi offriamo servizi di localizzazione satellitare che consentono alle aziende di ridurre gli sprechi i costi inutili perché loro tramite il nostro dispositivo installato sui loro mezzi riescono a vedere esattamente il percorso fatto dagli autisti e quindi ottimizzare i percorsi ridurre i consumi questo è stato il concetto giusto per riuscire ad entrare nelle aziende anche le aziende che ci dicevano che siamo in crisi bene noi abbiamo il modo per evitare che l'azienda chiuda perché ti facciamo ridurre infatti un prodotto che andasse a ridurre i costi inutili ci vuole raccontare brevemente la sua esperienza la storia della sua azienda come ha trasformato un'idea in una vera e propria business intanto come spiegavo prima io nasco risorse umane e cresco quindi professionalmente nell'ambito delle agenzie per il lavoro per cui selezione e gestione risorse umane e successivamente in seguito tra l'altro una storia mia personale mi sono approcciata a quello che è stato prima il welfare pubblico per cui ho curato grandi progetti di welfare quindi i vari bonus bebè piuttosto che dotte scuola a Lombardia nell'attesa di poter realizzare quello che poi era il mio vero progetto quindi coniugare quella che era la competenza nelle risorse umane e quindi nel welfare rivolto però alle famiglie questo perché ho sempre viaggiato in giro per l'Italia non ho mai avuto parenti vicino e quindi oggi si parla molto di networking io il networking lo faccio nel condominio perché per me i vicini di casa sono sempre stati quelli che mi hanno aiutato quando non avevo nessuno per cui ho deciso di puntare sui servizi alle famiglie diciamo che il fiore all'occhiello è la mia tata condominiale piuttosto che la governante piuttosto che la badante condominiale per cui cosa faccio do in sharing alle famiglie dei servizi quando è possibile dividerli per cui ci sarà un'unica persona che lavora in realtà su più famiglie dello stesso condominio condividendo anche dei momenti ma delle difficoltà anche perché noi viviamo in un paese dove siamo abituati a pensare al condominio come al posto di litigio per eccellenza e quindi la prima difficoltà è stata provare ad entrare nel condominio io da Roma sono venuta a Milano due anni fa quindi non ero neanche della città eppure nonostante si dica insomma della chiusura magari delle città del nord io ho un ottimo rapporto con il mio condominio tant'è vero che la mia azienda deve essere al piano terra di casa mia per cui sono partita da questo con un successo immediato devo dire perché quali sono state le difficoltà nel trasformare l'idea che a un certo punto lei ha avuto in un progetto vero e ci sono state delle strutture che diciamo l'hanno aiutata degli strumenti no allora strutture no ringraziando il cielo dopo tante esperienze in grandi aziende io e la mia socia siamo riuscite a fare dal business plan a qualunque altra cosa da sole io ho comunque buone competenze giuridiche per cui ho deciso di dare la forma della cooperativa sociale proprio perché il concetto è la cooperazione è lo sharing ma inteso proprio in senso stretto la difficoltà perché siamo arrivate ovviamente in un momento difficile per il paese con la riforma Fornero che seppur ha voluto l'intento era quello di tutelare la precarietà in realtà ha stretto molto i gangli di quella che è la burocrazia per cui oggi facciamo i conti con la difficoltà di un mercato del lavoro molto rigido quindi questa è la prima cosa con cui ci scontriamo mentre invece il nostro intento è quello di cercare di stabilizzare molte risorse come può essere una tata che normalmente si fa sharing su più famiglie in giro per la città quindi sicuramente la spending review e la legge Fornero sono state la difficoltà maggiore e proprio in questo momento di crisi quindi quali sono secondo lei le caratteristiche che rendono vincenti un progetto? Intanto crederci molto sembra un luogo comune ma non è così perché se noi siamo partiti a marzo e oggi abbiamo già una prima filiale a Roma quindi abbiamo Milano e Roma nonché tante altre persone che chiedono di fare questo tipo di attività vuol dire che c'è richiesta vuol dire che c'è volontà da parte di tanta gente di fare così cioè di non privarsi di un qualcosa come può essere appunto un supporto alla conciliazione familiare condividendo i costi quindi sicuramente bisogna crederci e bisogna avere delle competenze cioè cimentarsi in una cosa di cui non si sa nulla è assolutamente sbagliato andare dalla famiglia e far capire qual è il costo del lavoro del lavoratore domestico è fondamentale come farlo capire allo stesso lavoratore domestico e le chiedo un'ultima cosa come donna oggi si parla di imprenditoria femminile quali sono le caratteristiche che una donna deve avere per essere un'imprenditrice di successo secondo me coraggio ma quello le donne ce l'hanno sempre essere molto multitasking e quello ce l'abbiamo comunque secondo me anche conciliare un po' cioè essere donna nel senso non avere appunto non vestire panni diversi da quelli della donna quindi essere appunto con le calze la rete è il tacco è il tacco 12 dottoressa visentini innanzitutto se vuole raccontarci un po' la sua esperienza di imprenditrice volentieri la nostra società di consulenza è una società giovane è nata dalla volontà di quattro libere professioniste di costruire un'esperienza imprenditoriale sul tema della conciliazione famiglia lavoro work life balance lo chiama la comunità europea l'idea è quella di accompagnare le aziende e la pubblica amministrazione ad un cambiamento che intende conciliare i nostri tempi della vita con i tempi del lavoro che significa supportare le aziende nell'introduzione del telelavoro della flessibilità degli orari di lavoro significa anche accompagnarle a gestire la maternità la maternità è sempre un'esperienza difficile perché ci troviamo a dover gestire l'assenza dei nostri collaboratori nonostante siano collaboratori che abbiamo formato quindi rispetto ai quali noi abbiamo investito tanto le imprese devono saper cogliere questa opportunità di cambiamento quindi per noi work life balance significa sviluppo competitività produttività e non soltanto invece filantropia e atteggiamento morale nei confronti dei nostri collaboratori e rendere loro un ambiente preparare per loro un ambiente di lavoro favorevole significa farli lavorare meglio e quindi in ultima istanza avere un'azienda più produttiva e competitiva trova che le imprese le istituzioni la pubblica amministrazione stiano accompagnando questo cambiamento questa necessità di cambiamento o sono restie ma ammetto che ammetto e anzi mi piace sottolineare che in questo l'Italia dal punto di vista istituzionale e formale sta facendo delle cose work life balance e ambiente di lavoro condizioni di lavoro è al top dell'agenda istituzionale politica certo il momento che viviamo non aiuta e quindi questo a volte è più un riconoscimento formale una inclusione del tema nelle agende che però a volte non ha appunto un riscontro concreto in realtà le cose da fare non sono tantissime servirebbe un po' sburocratizzare alcune procedure per esempio per inserire per agevolare il telelavoro basterebbe poco chiarire alcuni aspetti normativi non renderli così rigidi per cui il lavoro va fatto su entrambi i fronti un fronte che deve aiutare le aziende agevolarle e l'altro sull'organizzazione delle imprese un aspetto che credo sia molto importante anche in un medio lungo termine è anche quello di una differenziazione delle politiche fiscali cioè usare la leva fiscale per accompagnare questo cambiamento cioè non è estremamente corretto forse neppure conveniente che la pressione fiscale gravi ugualmente su un'azienda che investe in welfare piuttosto che un'azienda che invece produce esternalità negative cioè assenteismo turnovere costi che poi si traducono in costi per la pubblica amministrazione l'assenteismo in un'azienda lo paghiamo noi lo paga la collettività per cui perché chi investe invece in un buon ambiente di lavoro deve subire lo stesso trattamento fiscale di chi invece non investe quindi dovremmo vedere la leva fiscale anche in questi termini lei diceva lei diceva che la sua azienda è nata dalla volontà di quattro professioniste e quindi personalmente che cosa ha innescato la voglia di sfidarsi e di iniziare un'impresa di questo tipo beh devo dire senza dubbio il fatto di essere state diciamo donne ci ha in qualche modo avvicinato al tema in realtà noi venivamo da un lavoro alcune di noi esperti in organizzazione aziendale altre in finanziamenti pubblici in finanza agevolata quando abbiamo incrociato il tema della conciliazione non ci è sembrato soltanto un tema che venisse incontro alle nostre esigenze ma un ottimo tema da spendere in termini di business e quindi noi l'abbiamo considerato in quella accezione cioè abbiamo colto intuito sperando che questa intuizione ci dia ragione che il tema della gestione del tempo del superamento di modelli organizzativi obsoleti che vogliono le persone in ufficio a quell'ora fosse un tema che era destinato a trovare uno spazio noi crediamo che questo spazio qualche regione la regione Piemonte appena è messo un bando tra l'altro scadrà il 31 ottobre piuttosto che altre regioni noi abbiamo collaborato tanto con Regione Lombardia le imprese lo stanno comprendendo crediamo che e auspichiamo ma io sono convinta che non sia soltanto una moda cambierà forse nomenclatura però è destinato ad accompagnarci perché come dicevamo prima la tecnologia e il futuro non ci aspettano un'ultima domanda allora questo salone ha anche l'obiettivo di favorire il networking quanto è importante anche tra donne sostenersi a vicenda di solito il mondo femminile è accusato di rivalità invece c'è bisogno di essere unite per ottenere dei risultati allora a volte la nostra unità non è produttiva mi spiego meglio siamo unite quando nell'autocompiacimento e mentre quando invece dobbiamo sindacalizzare e quindi scegliere delle strade in qualche modo rappresentative dei nostri diritti e delle nostre rivendicazioni facciamo molta fatica per esempio non comprendo perché nell'ambito anche delle stesse organizzazioni sindacali non ci siano dei movimenti anche che tutelano per esempio la figura della mamma la figura della mamma le mamme lavoratrici non riescono a fare lobby è molto faticoso d'altro canto invece sono fermamente convinta che il networking è un networking transgender cioè abbiamo necessità di parlarci tra di noi di non perdere troppo tempo a raccontarcela e quindi ad autocompiacerci delle nostre sfighe quotidiane ma andare avanti credere nei nostri progetti stringere i tempi quindi se abbiamo delle rimostranze alleiamoci andiamo a battere i pugni nei tavoli in cui vengono prese le decisioni per il resto inseguiamo i nostri sogni anche con l'altro sesso l'ultima intervista di questa puntata è al Mario Parenti presidente dell'associazione Gamma Donna che ha organizzato il Salone dell'imprenditoria femminile giovanile questa è la quinta edizione del Salone avete raccontato storie di tanti imprenditrici manager hanno affrontato e vinto sfide diverse avete percepito e registrato dei cambiamenti nel corso degli anni non può io stacco le sfide che le donne partiamo dagli aspetti positivi vogliamo essere ottimisti allora l'aspetto positivo è che nonostante tutte le difficoltà che conosciamo che non sto qui a elencare perché non ci vorrebbe una mezza giornata chi vuole fare imprese chi ha questa forte propensione a rischio continua a esserci non demorde noi facciamo sondaggi abbastanza frequenti e quest'ultimo che ci ha portato a queste 60 e passa storie di reinventrici lo dimostra direi che poi abbiamo ricevuto anche di più di 60 continuiamo a ricevere gente che ci scrive ah sono ancora in tempo no ahimè non siete più in tempo ma non importa probabilmente ci sarà un seguito a tutto questo perché è talmente interessante constatare che a fronte di quanto si legge tutti i giorni numeri drammatici quindi che tutti abbiamo letto e leggiamo ahimè giorno dopo giorno ebbene a fronte di questo che sembra uno sfascio economico senza 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 fine ci sono numerosissime individualità persone che in tutti i campi fanno impresa nel nostro caso le abbiamo chiamate reinventrici perché sono persone che a un certo punto della loro carriera della loro vicenda lavorativa o umana anche perché molti non lavoravano sono appena usciti dagli studi bene hanno deciso di fare cose diverse di uscire dal tracciato che seguivano che qualcuno aveva fatto per loro nel caso di situazioni familiari eccetera bene queste hanno deciso che volevano cambiare allora questo cambiamento nasce da dentro è un fatto individuale cioè che ciascuna persona negozia con se stessa deve sapere se ciò che fa lo soddisfa è anche in prospettiva oppure se questo no e lì ci vuole poi un po' di coraggio io dico anche un po' di coscienza perché oggi come oggi cambiare specialmente se c'è una situazione diciamo abbastanza tranquilla alle spalle richiede coraggio ebbene c'è gente che ha questo coraggio c'è gente che ha questa capacità di rimettersi in gioco e lo fa e lo fa senza tante storie perché non si sentono lamentele se non quando interroga quali sono i problemi eccetera ci dicono sì la burocrazia la difficoltà di riperimento di finanziamenti questo è vero per tutti però queste persone in qualche modo superano questa questa barriera che scoraggierebbe i più perché uno guarda intorno dice ma chi me lo è il famoso chi me lo fa fare beh se noi ragioniamo in questo modo rimaniamo quelli che siamo perché si è detto anche stamattina per reinventarsi bisogna uscire dagli schemi bisogna cambiare modo di vedere le cose e questo è difficile perché noi abbiamo un vissuto che è quello della nostra famiglia la tradizione familiare mio padre faceva così mio nonno faceva così siamo in un sentiero di percorso che ci sembra quello quello normale però a un certo punto può intervenire una crisi cioè questo non è quello che voglio fare allora perché questi hanno coraggio questo va al di là del rischio precede il rischio il coraggio di riconoscere che quello che stai facendo non è ciò che vorresti fare e in questo crede che le donne abbiano una marcia in più rispetto all'uomo ma sì devo dire di sì da uomo credo di sì lo spiegavo poco fa mi sembra che la donna sia molto più versatile è proprio un DNA che possiede rispetto all'uomo l'uomo si è irrigidito cristallizzato nel tempo cioè osserviamo una persona che ha un lavoro quello lo assorbe si fa assorbire totalmente da questo per il resto gli orari l'organizzazione aziendale è maschilista cioè è fatta per gli uomini gli orari sono fatti per gli uomini cioè le riunioni fatte alle 6 e mezza di sera alle 7 alle 7 e mezza sono fatte per uomini che non vogliono rincasare perché a casa c'è la moglie che lo aspetta per fargli l'elenco delle doleanze eccetera o i figli che non vanno a dormire sembrano banalità ma non sono banalità perché il discorso è che noi abbiamo dimenticato e si diceva proprio stamattina che al centro di qualsiasi organismo e l'azienda è un organismo un ente è la persona cioè io mi organizzo a seconda di chi ho e se non ce l'ho me lo vado a cercare ma poi organizzo il fattore produttivo in modo tale che le persone che sono i motori di qualsiasi decisione e attuazione agiscano al meglio ho bisogno di gente soddisfatta motivata e capace allora se non ci sono questi elementi se io ho un insoddisfatto evidentemente avrò una qualità del lavoro così così se non è motivata la persona prima o poi mi lascia o comunque se non è capace è un disastro evidentemente io ho una persona che magari ritieni di essere ma non è capace a fare quel lavoro devo spostarla devo dire guarda tu non hai queste caratteristiche devi fare altro aiutarlo a questo sì ma se non si fa questo allora non si è capito un accidente di impresa quindi non è una questione di voler umanizzare tutti i costi l'impresa è fatta di persone non è fatta di macchinari i macchinari sono un supporto i software gli hardware tutto quello che vuole lei sono qualcosa che deve servire a agevolare a rendere più razionale a guadagnare produttività ma se la persona non è capace e non è in grado di utilizzare lei può comprare qualsiasi cosa ma non funzionerà le chiedo ancora c'è quindi bisogno comunque di un cambio di sistema perché come lei diceva gli orari sono fatti per gli uomini che deve un cambio che favorisca anche l'imprenditoria secondo lei quali sono le prime oggi la tecnologia consente di fare cose che in passato non erano possibili quindi questo discorso fatto 30 anni fa aveva dei limiti molto chiari e quindi cambiare era più difficile ma oggi la tecnologia è tale e domani lo sarà ancora di più per cui non dico tutti i lavori tutte le occupazioni ma molte di queste possono essere fatte in maniera diversa in luoghi diversi ma chi di noi non lavora da casa sul computer poi manda queste cose chiunque facciamo così normalmente allora io non dico che non debbano più esserci i momenti di aggregazione certo che ci vuole un'azienda fatta appunto di persone che ci parlano e si incontrano ma questo non ho detto che deve essere tutti i giorni tutti i momenti quindi molte di queste occupazioni possono essere fatte in remoto per la donna questo è un supporto alla donna che vuole compatibilizzare la sua vita familiare con la vita e cosa di nuovo dice vabbè per l'uomo no certo anche per l'uomo ma per i discorsi che facevamo prima il marito non sarà mai la moglie il padre non sarà mai la madre c'è poco da fare poi possiamo discutere quanto ne vogliamo ma per il momento è così e forse per i prossimi anni quindi ragionando sull'esistente e su una prospettiva di medio termine l'unica cosa da fare è visto che la risorsa femminile è mal e poco utilizzata anzi malissimo utilizzata pochissimo utilizzata è una risorsa che abbiamo in casa e non dobbiamo importarla pagando in valuta pregiata e qua qualsiasi sistema intelligente capirebbe che la prima cosa da fare è utilizzarla meglio cioè avere una capacità produttiva maggiore utilizzando naturalmente utilizzandola in modo da renderla con partecipe motivata in questo di nuovo il discorso che facevamo prima se non c'è la motivazione non c'è la soddisfazione di dire io faccio un lavoro che mi piace eccetera e mi consente anche e viene riconosciuto e quindi qui tutto un discorso legato all'attribuzione eccetera eccetera io dico sempre che per me si parla di persone non si parla di generi che poi uno sia maschio l'altro sia femmine è un altro discorso ma sono persone persone con un lavoro di intelligenza l'occupazione lo curriculum tutto un eseguo questo va visto quindi puntare sulle capacità puntare sulle capacità per poterle motivare per poterle persone che fanno diciamo piacevolmente il lavoro che devono fare in conclusione lei è ottimista sul futuro sulla ecco non vorrei essere accusato di facile ottimismo io vedo che altrove si fanno cose del genere voglio dire se lei va questi sono miti ma google piuttosto di apple eccetera la gente è contentissima lavorare lì perché ha la palestra ha il luogo per portare la famiglia cioè uno dice ma è paternalismo neopaternalismo ma non è mega vero perché noi insomma che ci piaccia o meno noi lavoriamo buona parte della nostra vita e della nostra giornata è passata lavorando io penso che se venisse meno il lavoro sarebbe una tragedia umana no? perché non riusciremo mai ad avere tanti hobby tante occupazioni alternative da vivere quindi il lavoro è importante perché ti stimola perché mantieni in moto il cervello quindi dobbiamo adattarci a questa non come una maledizione ma come un'opportunità allora a questo punto se è così ma perché l'ambiente di lavoro deve essere ostile? per quale motivo? per lavorare devo fare una fatica che niente a che vedere con la mia fatica intellettuale o manuale ma una fatica perché l'ambiente non mi dà la possibilità di lavorare agevolmente di far bene ciò che io voglio fare perché poi alla fine guardi che la gente la maggioranza vuole lavorare bene vuole lavorare bene ci sono solo pochi che svicolano ma i più ci tengono specialmente quando questo lavoro viene riconosciuto voglio dire se mi riconosci io lavoro bene tu me lo riconosci io sono contento e quando io lavoro bene non me lo riconosci che avrei qualcosa da dire ma se no è così cioè la gente ama ama amare il proprio lavoro speriamo che il sistema capisca questo ma il sistema siamo noi cioè alla fine è inutile dire lo devono fare gli altri facciamo noi e queste signore qua che abbiamo sentito stamattina alcune quelle specialmente che hanno già sviluppato l'azienda quindi c'era una che ha 50 dipendenti l'altra ne ha 10 hanno detto noi abbiamo il luogo dove teniamo i bambini il luogo dove cioè se lo sono fatto sì e non sono mica falliti perché ma perché c'è il recupero di produttività cioè la persona che può lasciare il bambino lì perché vicino a sé no eccetera lavora ancora di più perché perché è contenta dice ecco questo è un posto che mi dà e io do il problema è proprio questa lealtà reciproca che deve esistere in un'azienda dove io do e tu mi dai e non mi dai solo i soldi va di bene che non è solo la questione economica certo che è importante ma è proprio anche come mi sento nel mio posto di lavoro apprezzato no posso fare le cose il capo mi sta a ascoltare no non prendo ordini in continuazione anche quando sono ordini che non capisco eccetera eccetera questo è ambiente di lavoro così si lavora meglio e si è più contenti e in fondo credo che noi tutti quanti vorremmo essere più contenti ecco non essere arrabbiati tutto il tempo e avercelo con tutto e con tutti è una bambolina ti fa mamma 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 Grazie a tutti.